Sì, è meglio che ci mettessimo all'ombra, perché i ragazzi cominciavano a friggere. Sì, è meglio che ci mettessimo all'ombra, perché ci mettessimo all'ombra. Sì, è meglio che 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 ci mettessimo. Sì, è meglio che ci mettessimo. Sì, è meglio che ci mettessimo all'ombra. Sì, è meglio che ci mettessimo. Sì, è meglio che ci mettessimo all'ombra. Sì, è meglio che ci mettessimo. 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 Sì, è meglio che ci mettessimo all'ombra. Sì, è meglio che ci mettessimo all'ombra. Sì, è meglio che ci mettessimo. Sì, è meglio che ci mettessimo. Non c'è un po' di solito, non c'è un po' di solito. Senti che se stai da lì, stai da lì. Ma ti metti fuori la mano. No, 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 è al posto, grazie. No, grazie, riprendo io, riprendo io. La ragazza questo, la ragazza di giovani, che si faceva di giovani. No, non, grazie. Composte la giovani. Vittor, non conosci gli ubarici? Sbarri un ufile, in questo modo. Siamo tutti, sono qui? Siamo... Sì, 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 sì. Buongiorno a tutti. 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 Sì, sì. La c'èuję davanti al bambino d'ingestione Infatti ma fuori Quanto è un po' con il sommo da questo? Quello allà drittone Merda Uigh ma Uigh ma Come quante Uigh Andem Non è difficile non lo cadere Non l'iction dansση Non l'occamore Maтовica 5-6 per il madri